La Procura di Teramo ha chiuso le indagini preliminari a carico dell'ex primario del reparto di cardiologia di Giulianova, Vito Ciampini. A suo carico è stato disposto dal GIP Domenico Canosa il sequestro preventivo dei beni. Indagato dall'estate scorsa, la Procura gli contesta i reati di induzione indebita, peculato, truffa aggravata da abuso di prestazione d'opera a danno della ASL di Teramo. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Teramo, ha consentito di individuare un sistema concursivo che sarebbe stato messo in atto dall'ex primario per almeno 4 anni, scoperto grazie alla denuncia di un giovane albanese. Agli investigatori ascolani, il ragazzo, al momento del suo arresto per spaccio di droga nel 2014, si è giustificato dell'attività illecita con la necessità di trovare almeno 5.000 euro per consentire l'operazione chirurgica del padre, che doveva essere seguita dal dottor Ciampini. Sempre stando alle indagini, il medico, approfittando del suo ruolo all'interno della struttura sanitaria, avrebbe fatto eseguire interventi chirurgici presso l'ospedale di Teramo, percependo in debiti compensi oggetto di contrattazione con il paziente. Inoltre, Ciampini avrebbe omesso di comunicare alla ASL, per almeno 4 anni, numerose visite mediche effettuate all'interno dell'ospedale di Giulianova e nel periodo in cui era autorizzato ad esercitare l'attività di libero professionista, senza rilasciare ai pazienti la ricevuta fiscale e senza corrispondere alla ASL, il 50% del corrispettivo delle visite prestate. Ammonterebbe a oltre 87 mila euro il profitto in denaro, che sarebbe derivato dai delitti contestati al medico e, secondo la procura, sussisterebbero anche le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto a danno dell'azienda sanitaria in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione, con abuso di prestazione d'opera.